Polemiche, se vogliamo, fondate forse sotto alcuni punti di vista, ma sicuramente opinabili sotto altre. Noi ci siamo mossi da subito, precedentemente, e continueremo a farlo proprio per dare modo a questo servizio di trovare la giusta via, la giusta collocazione. I nostri controlli sono stati effettuati precedentemente e continueranno ad essere fatti. Proprio ieri mi sono recata negli istituti dove avviene il servizio di refezione e abbiamo constatato una qualità della carne sicuramente buona, confacente, identica a quella che io avevo assaggiato la settimana scorsa. È facile da tagliare, così come si vince da alcune immagini che stanno già girando in rete. E altre sì, abbiamo riscontrato delle piccole criticità, come per esempio la possibilità di dare un giro di olio in più nei passi, qualora ci fosse servita la pasta in bianco. Queste criticità sono state puntualmente verificate e passate in via informale, così come in via informale mi sono state consegnate, ai referenti della ditta, i quali mi hanno assicurato che questi accorgimenti saranno apportati. Ovviamente i controlli continueranno, non solo così come è stata da parte del Comune di Gela, ma anche degli altri organi di controllo, come l'ASP, come il servizio veterinaria, che hanno già effettuato dei rilievi presso tutti i centri di cottura e che ad oggi non hanno verificato alcuna anomalia. Stiamo cercando proprio di riformare l'intero servizio di mensa, perché è chiaro che ci sono delle criticità che negli anni sono state accumulate, che non sono mai state affrontate in maniera seria. Quindi una delle cose che sicuramente mi premerà assicurare per il prossimo anno è quello di creare un organo di controllo, fatto anche da genitori, che possa, se non con cadenza abbastanza ravvicinata, poter assicurare la qualità dei passi e quindi poter sincerare anche ai genitori, che è quello che avviene nelle cucine e insomma tutto molto sereno. Grazie a tutti.